Allora il DAX chiude la settimana con un ribasso del 2% e qui dobbiamo cominciare a vedere se occorre cominciare a preoccuparsi. Faccio notare il supporto che avevo indicato qui con questo circoletto è già da un po' di tempo da tenere d'occhio e guarda caso i prezzi sono andati a fermarsi proprio lì. Quindi stiamo andando a testare il supporto molto importante in area 12.8 nel complesso devo dire che finora al di là di segnali minori come la violazione della volatilità di stop line che però non ha ancora cambiato colore per questo è un segnale ancora minore. Io non vedo altri anche nei quadri superiori non vedo per il momento dei motivi per dire siamo a un'inversione. E' ancora in essere il canale rialzista che vedete tracciato con le due bande colorate finché questo non verrà violato, finché la volatilità di stop line non cambia colore, finché non mollano supporti come 12.8 e ancora di più quello in basso a 12.4. Secondo me siamo nell'ambito delle normali oscillazioni di una volatilità che sebbene sia scesa perché siamo adesso ritornati con la volatilità a 27 26 27 ieri è salita un po' comunque siamo andati sotto 30 rimane comunque una volatilità relativamente alta rispetto a quello che era qualche mese fa. Quindi ci può stare, avevo detto che questa uscita dal canale per chi ci segue andava verificata perché molto spesso poi avviene che sull'onda di notizie si tenta un'accelerazione ma in realtà il mercato non è pronto. 13.3 ci ha dato comunque l'informazione che è un livello che non sarà facile superare infatti il primo test è fallito perché c'è stato 4 ore 6 ore in quell'area e poi i prezzi hanno cominciato a ridiscendere. Inizialmente chi segue si ricorderà che in base all'attuale rate of change cioè la velocità di salita che è una pendenza bassa che lo vedete anche dal valore di direzionalità no? L'area grigia, quest'area grigia vedete che non riesce a portarsi sopra 20 25 una direzionalità elevata vedete qua dobbiamo andare sopra 30 35 no? Quindi questa pendenza moderata portava al test di 13.3 grosso modo verso fine luglio primi di agosto. Quindi penso che ripeto a meno di rotture dei supporti chiave che delineavo prima penso che siamo comunque destinati ad andare ad un test di queste resistenze nei prossimi 10 15 giorni stante l'attuale situazione. Ripeto il quadro possiamo dire che sarà cambiato alla violazione soprattutto ecco io direi questo supporto dove c'è questo gap. da tenere in particolare d'occhio è a 12 e 7 magari mettiamo le coordinate esatte così lo portiamo avanti e lo teniamo presente ben evidenziato che d'altronde poi coincide anche con la parte bassa con il limite basso del canale ascendente. Per il momento direi non ho altro sul DAX e il FTSE MIB la correzione è stata un po' più profonda siamo già a testare la parte bassa del canale il supporto chiave è a 19.9 quello ancora più importante più giù però a 19.3 e qui la volatility stop line vedete che ha cambiato colore è solo il primo pallino. un pallino solo quindi sono segnali comunque di allarme ecco poi il FTSE MIB comunque non si muove isolato e quindi ecco perché teniamo d'occhio comunque il DAX che è un indice più efficiente per tanti motivi e dà meglio l'idea di quello che è l'andamento dei mercati europei. quindi FTSE MIB anche esso sui supporti da tenere d'occhio come dicevo 19.9 in America Dow Jones meno 0.7 è sempre lì siamo sempre in questa resistenza che poi è il vecchio gap dell'11 giugno ha provato diverse volte a superare la rialza o niente sta ritentando i supporti e sulla volatility stop line. però anche qui non vedo segnali clamorosi di inversione sì manca la forza per andare avanti però finché non verranno rotti i supporti chiave che sono qui mostrati anche in questo caso è prematuro dire è iniziato Armageddon no? bisogna andare uno step alla volta anche perché abbiamo indici come il Russell che mostrano una tenuta dei supporti un po' più incoraggiante ecco anche il Russell ha qui questo ampio gap che va tenuto d'occhio questo è l'etf IWM rappresentativo appunto del Russell piccole e medie aziende americane le small cap area 143 è il livello da tenere d'occhio bene direi con gli indici non ho altro bene ecco un aspetto positivo è il questo è lo spread BTP bond che continua a calare siamo andati sotto 150 abbiamo chiuso 144 questo è il BTP che continua a mostrare buona forza è un trend a rialzo quindi questo direi è un ulteriore motivo che per il momento sostiene anche quello che è l'andamento dell'equity fra alti e bassi perché comunque ci sono alti e bassi questo è l'Enel non possiamo pretendere che un titolo del genere vada solo su e anche quando ci sono accelerazioni vi ricorderete che l'avevo detto qualche giorno fa bisogna stare attenti perché poi c'è il ritorno verso le medie Enel si sta muovendo comunque in un suo canale nell'ambito della sua volatilità c'è una violazione che è la volatilità di stop line ma lo ritengo a questo punto un segnale per il momento di gravità secondaria siamo ancora nell'ambito delle correzioni siamo sopra i supporti chiave la media 200 periodi quindi per il momento è una correzione che ci può stare Telecom Italia continuiamo a seguirla perché c'è questo 038 che è la suspense regge o non regge, regge o non regge qua c'è stata una, questa candela secondo me è importante questa era l'apertura del 24 luglio, le prime due ore c'è stato un test c'è stato un test e c'è stato un rifiuto quindi però a questo ovviamente anche complice all'andamento generale del mercato i prezzi non sono riusciti a ripartire verso l'alto ha chiuso venerdì riportandosi di nuovo a 038 però per il momento 038 regge ricordo che è un livello importante perché è l'uscita da questa ampia figura di consolidamento e gli obiettivi a rialzo potrebbero essere significativi quindi secondo me è da seguire Telecom Italia STM molto volatile fa queste performance meno 2,5 però anche STM finché mi sta sopra 24,7 per me non è una grossa preoccupazione il fatto che abbia questi storni perché comunque è un titolo che ha un beta elevato rispetto al resto del mercato bene Prismian che resta solida sopra la volatility stop line quindi è un trend ecco vedete quello che volevo mostrare questa è una direzionalità che sostiene bene quindi quando andiamo sopra 30 quando la DX si porta sopra 30 sto parlando dell'area grigio chiaro questa è la DX mentre il giallo è il DMI plus e la curva nera è il DMI minus quindi questa è una fase correttiva i due DMI si rincrociano la DX corregge però finché mi reggono i supporti questo per me fino adesso è una normale correzione Banca Popolare di Milano per qualche aspetto ricorda Telecom nel senso che era riuscito a passare a rialzo le resistenze importanti a 1.41 ci si è ripoggiata ci passa anche la volatility stop line abbiamo molti titoli in questa situazione tecnica quindi con test dei supporti per cui è anche intesa stessa cosa stessa cosa 1.81 superato volatili stop line si è ripoggiata lì quindi da seguire diverso discorso di Ferragamo Ferragamo chiuderei con questo perché Ferragamo invece viene da una fase impulsiva che si è conclusa l'8 giugno è una lunghissima fase di consolidamento che secondo me va monitorata perché se superata il rialzo la fascia 12.4 potrebbe dare degli obiettivi interessanti quindi l'ho messo in watch list ogni tanto gli diamo un'occhiata e lo terrei d'occhio perché una serie di indicatori mi dicono che c'è potenziale non che sale domani c'è potenziale ma ce lo deve confermare perché chiaramente per ora la fase è sotto gli occhi di tutti che per ora in questo momento sta scendendo comunque non sta salendo ecco quindi ci deve dare altri segnali prima di prima di dire che si è iniziata però i presupposti ci sono ecco questo volevo dire i presupposti ci sono e quindi vale la pena seguirlo bene siamo a 10 minuti di video chi avesse commenti o segnalazioni può lasciarmeli di sotto e per il resto ci aggiorniamo a lunedì sera grazie dell'attenzione grazie a tutti